ma no chi è che manca eccolo F di frocio è bella tutti ragazzi frocio deficiente orso frocio unicorno frocio Berto chat rapida ma è strascondo la cellulare entra sei dentro F di O F U F buono raga ma quel uomo è un fascista anzi nazista no ma l'ho preso apposta ma perché c'è una pianta carnivora ah comunque comunque io sono Gigi non sono Carl Guy Carl Guy è Rob bella bella allora allora io sono Gigi io sono Gigi bella come è che faccio a cambiare nome? come è che faccio a cambiare nome? eh non puoi adesso no ma poi lascialo così com'è che era il codice? S bella 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 non fai una foto ti prego ma questi occhiali ci sono degli occhiali sulla scatola bella F B O com'era? l'ho scritto in chat su Discord c'è una chat che si chiama codici stanze 1 perché lì ci dovrà messo ah F di O com'è che lo cambi questo? cosa? no cos'è sta roba? bella raga ma cos'è sta roba? eh eh è la radio fra ha sa chi è tu? mi viene ah zitti 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 gamba hai sentito altri? ciao eeeh raga si si eh non ci sono neanche la cosa abbastanza volume di mongost bella 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 ma si riesce? bella 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 vabbè quando hanno finito sti due ma in inglese non è? ma in campo siamo in 7 com'è in inglese? eh com'è che se lo spegni questo? l'hai spento bravo e lei ne accendo e ora spegnilo bravo no manca aspetta passa un secondo il telefono no bro hai il microfono attivo ma spegni sta roba ma com'è che fai a disattivarlo? vediamo un gusto come si fa a scrivere? eh non si può scrivere perché è chat rapido e come si fa allora? eh ci parliamo siamo su disco da posto sì ma cosa serve? cioè come funziona la chat rapida? eh ma non la usare ma come funziona? cioè non funziona lascia stare ma inculati grazie bella partiamo con un impostore metti un impostore chi è che lo mette? eh e fra fra noi partiamo eh non c'è che ci riscorte ah ok non guarda non guardare non guardiamoci non guardo però allora dobbiamo girarmi mi sa che ha visto il suo ricordo adesso sono due oh Dio ma è che è quello il 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 sei contento? si fra togli il microfono l'ho già montato l'ho già montato l'ho già montato l'ho già montato dobbiamo fare come se non fosse le pistole gabbo non ci uccidere timiamo timiamo non ci uccidere come si fa a uccidere? timiamo gabbo l'ho ucciso oh cazzo petterelli 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 fra ammazza quello sopra cerini plan sopra ammazzalo veloce veloce ammazzalo come si fa? copione ammazzalo ammazzalo ma siete tu e lui? siete due? fra gabbo fra gabbo e roi nooo ma cosa dici? si sei tu sei tu ma cosa ooo no non perché vedo il tuo è fra e viviane non è vero si è vero è corn guy hai scelto un cazzo? no è gg com'è che si chiama? gg no ma no cosa? è corn guy è gabriele è gg ma non è vero ma ti ho visto ucciderlo davanti ai miei ma era lui eri tu oh bastardo come ti chiami sette colpi? bastardo ti vota hanno votato tutti i tempi ma che bastardo ma sei dei rifrosti di merda stanno sentendo che cazzo che bastardo oh sono loro ve l'ho detto siiii bellissimo ma come avete fatto a vincere? perchè avete vinto? si ma perchè è una merda perchè avete vinto? ma mette un solo impostore ma perchè avete vinto? ma io l'avevo messo un solo impostore ma perchè avete vinto? guarda ma io avevo messo un solo impostore perchè avete vinto? perchè? in pochi ah li avete scesi tutti ma io l'avevo messo un solo impostore diobono passi scusi Ma anche una persona comunque Hai un caricatore? Ne ho io lo zaino, un botto Entra No, aspetta, aspetta Ma aspetta Cioè, siamo in otto con te, eh Siamo in otto Sì, secondo me possiamo farlo in posto Aspetta il microfono Uno solo? È uno solo, vero? Zeeboli Ma c'è la mappa storta quindi Fra c'è la mappa storta Ma come la mappa storta? Prima l'hanno detto così Ma io, io, io Cioè, io confido nel fatto che non mi guardate No, Gabbo, non dire queste cose Sennò si aspetta di te No, non puoi guardarlo Cioè, è soltanto con un mega schermo Cioè, è ovvio come vedete Allora, devi fare un po' Com'è che faccio le tasche? Stronizzato Vero, è strana cazzata Oh, com'è che si fa? Non lo fai Non ho messo un solo in posto Ok Ce ne sono ancora due È uno solo Teoricamente Ma com'è che funzionano le tasche? Questa domanda è davvero una cosa costosa No, no, ma ce n'è solo una, ragazzo Io so chi è Era davanti a me, sei teletrasportato Fra, attiva il microfono Ma no, no, no Fai chiamata No, aspetta, aspetta Fra, attiva Era giallo, è quello giallo Fatti, fatti, fatti Fermo, fermo Allora Oh, è quello giallo L'ho visto davanti a me Siete teletrasportato Perché aveva la botola sotto Cioè Cioè, c'è il Roy che dice di aver visto quello giallo ventare, una roba del genere Sì, secondo me è lui Sui o il giallo? Appunto Chi è giallo? Magari era... No, ho sbagliato No, perché era arancione Non mi ricordo No, è giallo, è giallo, è giallo È giallo? Secondo me sì Sono io, coglioni, branco di merda Ma magari è mutaforma, ragazzi Ma perché Core Guy? Chi è che mi ha votato? Ma sei tu, coglione, Core Guy C'è un po' lo scendio su di me Vuol dire che tu hai votato Madonna, che branco di merda Era lui, era lui Dai Vai, spendimi troppo Non era l'impostore No, se no avremmo vinto Ma hanno proprio l'attività Mi fai stradire con quella È bella Bella Ma come è che si fa sta task, Fran? Ah, posso confermare che adesso... No, ma fai schifo Adesso ti posso dire che non sei più impostore Ma io non lo ero neanche prima Eh, però sei un coglione GG, grande GG Ciao GG No, aspetta, togli il culo da me No, adesso io devo agire come se pensassi che tu sei ancora impostore Però ero io Ma perché prima lo pensavi? Ma non è che mi scuglio Ma potevi esserlo Oh, ok O comunque adesso stiamo zitti anche tra di noi Perché se no Qua è andato a te la task Ma no, non so capisci perché non ho tosta roga Ma raga, ma... Cioè, come si fa a essere il cane, gachi? Come fai a prendere il suo serio chi? Oh, c'è una task Come ora si fa questa, Fran? Bra, basta Clicchi, clicchi, clicchi dei cazzi Basta cliccare Ma è facilissimo, che cazzo è? Se la puoi che ho sorridere Sette colpi in telecamere Ma è strana difficile giocare da... Ma essere un angelo fa... È disturbante perché passi in mezzo ai muri Cazzo me ne frega Sono un angelo di me Cosa che canta, no? Non ci credo, chi è? Albi Albi, grande Ma chi è che mi ha ucciso? Cosa? Deve morire o cosa? Qualcuno mi ha ucciso? Chi è? E ora non possiamo andare a cosa? ...allettante ma... ...dopo questo orgasmo... Non c'è la svastica, ragazzi Non c'è la svastica Eh, la foto per quella di Discord Gigi, sono davanti a te, sono un cadavere Ti sto seguendo Gigi, Gigi, grappo Sono davanti a te Dov'eri? Davanti a te Vai, chi è che c'è? Scosta il microfono Io Sono morto Dov'era? Allora Allucino a un negro E... Io... Aspetta Io ero in... Come si chiama? Electrical Sono uscito da Electrical Sette colpi Sette colpi Stai zitto Ti ho visto che hai girato tutta la mappa con Corn Guy Ragazzi direi che... Esatto L'ho seguito, bastardo Ma non è vero Lui è... Io ero in telecamere Di sentire cosa dice Io ero in telecamere e ho girato un po' lì Ho visto anche Gabriele e Viviani due o tre volte Ma saprei Poi sono sceso Sono sceso in Electrical Sono andato giù E... E dopo essere andato in Electrical Sono andato lì dentro un po' in Electrical Sono uscito e c'era Gigi Cioè Gabriele e Viviani Vicino al corpo Che stava arrivando vicino al corpo Io? Sì, tu Eri sotto Ma dov'era il corpo? Tu eri sotto... Fuori da Electrical Io ti ho visto che eri fuori da Electrical Confermi che eri fuori da Electrical Eh sì sì ma... Io stavo uscendo da Electrical Sono girato a sinistra per tornare in telecamere Perché non avevo più voglia di far tasco È un complotto E ti ho visto a passare Ma io sono andato da Estra Dov'era il corpo? Sì ma ti ho visto passare Che andavi verso di là Eh Eh il corpo era vicino al reattore È sette colpi Ma che... Ma perché io ero... Mi hai visto uscire da Electrical? E non posso neanche aver ventato Perché non c'è una ventola Che dà dal reattore Apparentemente sette colpi Mi ha seguito tutto il tempo Come... Non so Non lo so sinceramente Io ho votato sette colpi Ma non succede Ma perché sette colpi? Ma infatti anche... Anche Roy dice Perché sette colpi? No No Ma perché ti chiami sette colpi? Ah Boh No perché tipo C'era uno che urlava Sette colpi Sette colpi Dove? Ma schifo Niente Sette colpi Ma vabbè Ha fatto una killa partita E perdo così Ha fatto schifo E anche spucco Abbiamo vinto Sì No lo sapevo Ma lo sapevo Sei morto da lui Ma io non l'avevo anche vista Perché stavo guardando Gabbo Eh non dovresti Oh facciamo così Tu vai là Ma io non ti guardo Necro del void No si è spento il telefono Non so No Ma non hai detto che avevi 20 caricature Poi tu hai stifo di merda Passa un secondo No frate Si è startata una partita Eh ma frate Devi fare il gioco ancora Ah si? Eh si Guarda mi sono lì Quella faccia da sau No Comunca si chiama Da scream Oh entra Alvi Sì Sì Grazie a tutti